Oltre mille relatori che arrivano da tutta Italia e ospiti istituzionali di rilievo nazionale, è in pieno fermento la macchina organizzativa del 18esimo Forum Risk Management che sarà ospitato da Rezzo Fiere e Congressi dal 21 al 25 novembre che rappresenterà un vero e proprio laboratorio della sanità del futuro. Tantissimi i temi che verranno toccati nei vari tavoli di lavoro a cominciare dalla necessità di inserire in finanziaria più soldi per la sanità pubblica. Un evento di carattere nazionale perché ci saranno tante regioni e gli esponenti appunto anche nazionali dei vari soggetti in campo. Sì ci sarà il ministro, ci sarà il sottosegretario, ci saranno i governatori di alcune regioni, ci saranno i dirigenti di tutte le regioni e soprattutto una grande parte dei direttori generali, sanitari e amministrativi di tutte le aziende sanitarie perché il cuore del Forum qual è? Cercare di mettere insieme tutti gli attori, quelli che si chiamano gli stakeholder, per condividere idee, progetti e soluzioni per migliorare il nostro sistema sanitario. Il Forum si terrà nei giorni in cui in Parlamento deciderà la legge di bilancio e quindi sarà un'occasione per far sentire la voce del Forum per dire occorrono più soldi per il sistema sanitario. E ancora un tema di stretta attualità, la transizione tecnologica in sanità. Temi fondamentali come uno il fascicolo sanitario elettronico, cioè porteremo il progetto del nuovo fascicolo sanitario elettronico che consentirà al cittadino ovunque vada in Italia e in Europa di avere i propri dati a disposizione. Secondo la telemedicina per garantire al cittadino uno la migliore facilità di accesso possibile al servizio sanitario attraverso tutti gli strumenti della prenotazione e attraverso poi la possibilità di accedere nel territorio con la casa della comunità una volta sola per avere il suo programma di assistenza e sanità. E poi attraverso il teleconsulto, il telemonitoraggio e il telecontrollo garantire fino a casa del paziente che ci sia questa prossimità tra il medico, l'infermiere e il paziente, il cittadino e questa è una cosa importantissima soprattutto per gli anziani e le persone più fragili. E poi le centrali operative territoriali. Ho parlato di prenotazione, ho parlato di servizi integrati, le centrali operative territoriali ancora una volta grazie alle tecnologie saranno in grado di garantire i servizi, voglio dire una volta che si accede al servizio sanitario avere risposta a tutti i bisogni di cui abbiamo. Quindi il forum sarà una grande occasione anche per capire tecnologicamente come le tecnologie, quello che abbiamo chiamato la transizione digitale, può impattare su una sanità che deve rinnovarsi e deve riformarsi.